Sono appena tornato dal cinema e non vedevo l'ora di parlarvi del film che ho visto questa sera, ovvero Marilyn Agli Occhineri, il nuovo film di Simone Godano con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Onestamente era un film che sin dal trailer mi aveva caricato di aspettative altissime perché mi aveva incuriosito tantissimo, soprattutto la recitazione di Stefano Accorsi e Miriam Leone che già dal trailer mi aveva fatto intuire che era un po' salita di livello rispetto a magari i film precedenti in cui io li avevo visti. Non sto assolutamente dicendo che non siano dei bravi attori, semplicemente magari li avevo visti in alcune commedie che non li avevano valorizzati tantissimo come ha fatto Simone Godano in questo film. Di cosa parla questo film? In breve parla di un gruppo di persone con dei problemi mentali, principalmente, che decidono di mettere su un ristorante, quindi sfruttano l'idea di questo ristorante per fare terapia e cominciare a avere un minimo di integrazione con la società fuori. Premetto che anche questa recensione, come tutte quelle che trovate in questo canale, a cui anzi invito ad iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi nessun contenuto, comunque dicevo che anche questa recensione sarà assolutamente senza spoiler perché il film è ancora in sala e spero con questa recensione di invogliarvi un minimo ad andarlo a vedere. A differenza delle altre recensioni non starò qui invece a soffermarmi sulla fotografia o su alcuni aspetti del montaggio, eccetera, perché penso che questo sia un film che principalmente bisogna osservare dal punto di vista della narrazione. Una narrazione lineare ma che ha una potenza incredibile. A partire dalla interpretazione dei due attori principali, ovvero Stefano Accorsi e Miriam Leone, Stefano Accorsi che io ho trovato addirittura superlativo perché ho proprio percepito tutto lo studio e la cura con cui lui ha osservato le persone affette realmente dalla patologia del suo personaggio, ovvero l'essere ossessivo compulsivo, ma anche un personaggio che non riesce a controllare i propri attacchi d'ira, un personaggio con dei tic fisici anche pesanti, tutti questi disturbi che lui, Stefano Accorsi, si vede proprio che ha studiato per rappresentarli al meglio nel suo personaggio. Il film, pur trattando una tematica così importante, lo fa con un rispetto tale che non abbiamo mai la percezione, o almeno io non ho avuto mai la percezione, di pena, di compassione verso queste persone, ma veramente arrivi a vederla come se fossero persone normali, come li definiscono loro nel film, o normodotate, come dovrebbero essere definite, cioè persone non affette da nessun tipo di patologia. Ho notato che spesso quando vado al cinema vengo catturato da alcuni dialoghi che mi trasferiscono in un'altra dimensione e mi costringono quasi a soffermarmi su quello che è stato appena detto. In questo film succede diverse volte e la prima che voglio dirvi viene appunto detta da Stefano Accorsi che dice se uno sta male, poi la gente ha paura. Credo che questo sia uno dei cardini su cui ruota la storia, ovvero il fatto di sentirsi costantemente diverso, additato, di sentirsi costantemente giudicato dalle persone e per questo tendere all'autoisolamento, al volersi distaccare dalla società per paura di deludere e di essere delusi, per paura di far paura, scusandomi il gioco di parole. E questa frase mi ha catturato perché ognuno di noi, almeno una volta nella vita, sicuramente si sarà sentito incompreso. Uno dei temi principali di questo film è l'incomunicabilità, perché incomunicabilità è proprio, credo, il talento principale di queste persone. E passatemi il termine talento, perché ci vuole talento per capire delle persone che comunicano attraverso l'incomunicabilità. Queste persone sono talmente unite tra di loro, riescono a capire veramente la sofferenza dell'altro, nonostante parli un linguaggio non linguaggio, certe volte totalmente diverso. E infatti a un certo punto nel film viene detto la sofferenza spesso degli altri ci fa paura e l'allontaniamo perché allontanandola vuol dire che è una cosa che non ci riguarda. Ecco, invece lì nel film, le persone che tutte si sono sentite allontanate finalmente trovano un'anima, una persona, qualcuno disposti a unire questa incomunicabilità appunto alla loro e creare un linguaggio che invece alla fine si scopre essere un linguaggio universale è veramente accessibile a tutti. Basta solo fare un po' di attenzione, basta semplicemente non ignorare chi è diverso da noi, ma anzi apprezzare la bellezza di queste mille sfumature che la realtà ogni giorno ci regala. E poi c'è un'ultima frase che mi ha veramente fatto scoppiare il cervello, ovvero Stefano Accorsi, che in questo film, lo ripeterò fino all'infinito, mi ha veramente stupito tantissimo, tantissimo, a un certo punto dice pensano di avere ragione solo perché sono di più i normali. Ecco, secondo me il film poteva anche finire su questa frase perché esprime un concetto grandissimo, ovvero ma i normali effettivamente chi sono? Se ognuno di noi almeno una volta nella vita si è sentito incompreso, si è sentito diverso, allora vuol dire che siamo tutti diversi e quindi il confine tra normalità e diversità qual è? Ecco, io non dico che questo film risponde a questa domanda o trova una soluzione a questa domanda o vuole trovare una soluzione o vuole dire che siamo tutti uguali o vuole dire che siamo tutti diversi perché ognuno può farsi la propria interpretazione. Io penso che questo film alla fine ti fa porre delle domande, domande che poi ti invitano a riflettere e ti fanno capire che in realtà il diverso potrebbe essere molto molto simile a noi perché in fondo forse il vero nostro io esce quando riusciamo a disinibirci e a diventare un po' matti come vengono definiti quelli del film. Questo è quello che io ho percepito di questo film, è un film italiano, io sono sempre per premiare film italiani perché non sopporto molto quando viene accostato il cinema italiano solo a delle porcate che vengono fatte ma sono contento invece quando si riesce a tirare fuori una bella storia. Voglio sempre premiare le nostre perle e quindi vi spingo ad andare a vedere questo film se non lo avete ancora fatto e come sempre invece se lo avete fatto vi invito a scrivere qua sotto un commento senza fare spoiler per favore oppure a contattarmi su Instagram lo trovate qui da qualche parte vi metterò il mio Instagram e contattatemi perché sono sempre contento è successo già con la recensione scorsa alla scuola cattolica sono sempre contento quando mi contattate e intavoliamo una discussione perché il cinema è bello anche per questo io spero di avervi intrattenuto con questa recensione ci vediamo alla prossima spero molto molto presto e viva il cinema daje!